Un duello giocato sul filo dei nervi, della preparazione fisica e perché no anche della fortuna, quella dea bendata che da qualche giornata a questa parte sembra aver voltato le spalle al propiacenza, impegnato nel tremendo duello finale con un San Marino Maidomo. In nome della regolarità del torneo, tutti insieme appassionatamente domenica alle 15 con i rossoneri impegnati al garelli contro l'Aquila e i titani che saranno di scena sul campo della Reggiana. Sulla carta, una giornata che par disegnata su misura per un possibile nuovo balzo in avanti di Matteassi e compagni. Mister, a tre turni dal termine, su cosa agisce un allenatore? Noi dobbiamo agire sui nostri obiettivi e le nostre motivazioni che devono essere enormi, devono essere superiori a tutto e a tutti, anche squadre di blasone e di giocatori importanti come l'Aquila per cercare di fare risultato. Trattasi dunque di occasione da non mancare a tutti i costi quella che si profila per la banda di Franzini che, a tre turni dalla fine del campionato, non può proprio permettersi passi falsi ulteriori. Il gran finale con Gubbio e Lucchese potrebbe non essere poi così terribile con l'ultimo impegno cui i rossoneri sono attesi da disputarsi ancora al Garilli. San Marino e proprio a Cenza, 30 punti a tre gare dal termine, chi parte avvantaggiato? No, credo che, come ho detto da tempo, conta poco il calendario, conta poco la classifica, bisogna dar tutto senza guardare gli altri. Chiaro che poi noi dobbiamo sperare anche in un passo falso di all'avversario, ma prima di tutto dobbiamo cercare di fare risultato noi, di fare dei punti, sicuramente diventa fondamentale la partita di domenica per avere speranze, dobbiamo sapere che per noi uno spareggio dentro fuori è una partita che vale la stagione, lo sappiamo, spero che saremo pronti per una partita così importante. Si profila un ritorno al modulo a quattro difensori anche alla luce dell'assenza di Silva, con Bacher a fungere da regista davanti alla difesa. Più che i moduli però saranno le motivazioni e lo spirito a fare la differenza, con l'undici abruzzese reduce da due sconfitte di fila. Nessuno spazio alla scaramanzia invece con mister Franzini che non si lascia andare a nessun tipo di fioretto. No, li ho sempre fatti da giocatore i fioretti mantenuti, non ancora ho fatto niente, quindi vado avanti così, non prometto niente, speriamo di ottenere tutti questi play-out benedetti e poi giocarcela ancora più avanti.